Al termine della partita al Palazzetto dello Sport di Palavolo, Evolution Volley, Impresa Martinelli, US Altedo, siamo con coach Mario Astrada, a cui rivolgiamo subito una domanda di rito. Sei nuovo, come hai trovato la squadra? A parte la vittoria di oggi che avviene dopo una serie negativa di risultati. Diciamo che la squadra viene da un problema che ha avuto dentro la società, più che ho dovuto lavorare è la parte mentale delle ragazze, cercare di fare stare in campo, cercare di stare in allenamento. Questo ha portato una partita veramente la prima che ci ha costato molto perché abbiamo perso però senza giocare. La seconda abbiamo fatto una bellissima partita venerdì scorso, oggi aspettavo una vittoria un po' più facile, un po' più tranquilla, però si vede che ancora il nervosismo non li lascia esprimere tutto quello che loro potrebbero dare. Questo è il problema. Naturalmente abbiamo visto anche una Minarelli un po' sotto tono, era abbastanza anche influenzata, ci diceva all'inizio della partita. Sì, diciamo che la Mora, chi la conosce da anni, io ho giocato sempre contro e solo alla fine dell'ultimo set è venuta fuori quella grinta che lei ha caratterizzato. Fisicamente non stava, ha fatto un allenamento soltanto la settimana e male, poverina, perché non riusciva a star bene. Oggi eravamo col dubbio se veniva o no, per fortuna se lei tiene la squadra e gira in un altro modo. Dopo, alla fine, ha voluto, se vuole lei, sappiamo che la qualità di quella giocatrice è incredibile. Oggi difficilmente nascono così come loro. Ascolta, per il futuro la squadra pensi di lasciarla così o pensi di cambiamenti? Allora, uno dei problemi gravi che abbiamo è che, come si vede, la panchina è corta. Ci sono delle ragazzine, 14 anni, 17 anni, che non riescono a entrare in campo, tranne la centrale che ho messo in campo, che anche se ha un under 18, ha una vasta esperienza in selezione provinciale e in prima divisione. però si allena poco, motivo per il quale non posso dargli tante possibilità. Però il problema è che non abbiamo niente dietro. Oggi, per esempio, le ragazze avrebbero avuto bisogno di un cambio, soprattutto nel secondo set avrei dovuto cambiare le bande, però non avevo niente. Ricordiamo ai nostri amici a casa che il risultato finale è di 3 a 1 per Evolution Ball in presa Martinelli. Ricordiamo ai nostri amici.